La cura a Papagni incomincia a funzionare per il Biceglie. Gli stellati a piccoli passi provano a tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica, che in questo momento dice 20 punti e il penultimo posto, ma la zona salvezza dista appena 3 punti e ci sono tante squadre a portata di mano per i ragazzi di Papagni. L'allenatore Nerazzurro ha riportato serenità al gruppo e anche i tre punti nella sfida salvezza contro la Viterbese, ultima partita che si è giocata prima dello stop forzato del calendario della scorsa settimana. Sabato si torna in campo in anticipo per la sfida allo Stadio Ventura contro la Juve Stabia. La classifica dice che è una gara proibitiva, ma la salvezza passa dalle muramiche e da qualche punto strappato magari anche contro le grandi del girone. Papagni sembra aver trovato anche la quadra tattica con il 3-4-1-2, che garantisce la solidità con la coppia rumisti e cittadino in mezzo al campo, la qualità di Manzur alle spalle del tandem Rocco-Cecconi. Gettare il cuore oltre l'ostacolo e macinare i punti, ma il dato più importante è che il Biceglie è assolutamente una squadra viva e non spacciata come sino a qualche settimana fa. Papagni in poco tempo ha ridato certezze a una formazione che sembrava smarrita.